Diario Algares di tutti i miei, pensamenti di Francesco Franco Masia. Il peggior segnalo di Anzagurezza arriva quando ci siamo convinti che tutto il mondo stia pensando a tutti i miei altri. Felicità! A Nicomedia, la famiglia nobra vede ancora delle pare eretiche nella torre del proprio castello per la sua fe cristiana. Razziscia fuggì e si fa battià a rinzi di un'astanza. Rattirà in un'abitazione di un pastor, ma vede denunziare, imprasionare e torturare. Lo giunge alla condanna attraverso la città di Nunuà. Al dia, fissati però, un nuvole d'endensi negra amburica la santa proteggente la sua cosa. Condannare alla morte, il padre a Matteo va a decapitare la figlia. Quando il capito di Barbaracau, davaglioniamo, e insieme l'uomo. A voi è assai difficile posare le cose delle varie parti politiche. E quasi sempre non si sape chi da spagli la candera. Questa è la storia di quattro persone che si accerravano Carau, Calchiu, Qualsavol e Ningù. Un giorno si arriva a prendere un'importante decisione. E il signor Carau era sicuro che il signor Calchiu accettasse la proposta. Il signor Qualsavol era a decoglio. Ma il signor Rigù, no. E si è accaduto che Carau aveva dato la colpa a Calchiu. Perché Rigù aveva fatto lo che Qualsavol pureva fare. E quindi comprende anche che a tutti non potrà aggredire l'agliare dei pezzi di Ghiglia. Racconti di Michal Chiesa. Ora è l'industria delle pezzi per le vie. Carriva senza importanza. Solo nel 1880 erano stati a produrre meno o meno di 2.000 pezzi. La produzione ha cominciato a diminuire nel 1890. Quando le vie venivano attaccato la filocera Paldonau. Un parasita che distruiva le raguinze delle vie di nostra varietà. Non attaccava però le vie americane. Per questo motivo avevano inserito i nostri almenzi anacchischi. In questo modo era stato eliminato il fragile. che in Algarisle hanno chiesto la filosa ma hanno chiesto i vocaboli di un altro significato. Un'altra è una strumenta per filare l'agliare. Gli occhi. E l'altra vuol dire una fulbissia. La rondaglia. La rondaglia di voi. Le donne della Caritale. De Gianni Rodari. E non va lì. Due donne abitavano in due case accostate. Una ricca, ma l'antragnara. E l'altra sai prova. Un dia un'anziame indicante si rappresenta a rapporto della donna ricca. E gli domanda un'amica di qua. Rasponda. Arresti in chiedita da. E nel caccia, ma la mente. Va. A una donna prova. Ma te c'ha da mano. E glielo convida in casa. E gli dono una coca che stava preparando per fili. D'Eneri. Noi sai. D'Emeri. Noi sai. Noi sai. E' la ringrazia. E' la nanziame di Dio. Dio. E' la sanastava nanti. Dio ta bene esce. E ricorda ta che. Qualsavol cosa. As comanzarà a fiarà. Continuarà a fiarà. Ma finchè la culi d'ara del sol. La sanastava pensa di dar a mangiare a fili. Ma non t'entrava res. Solamente qualche metro di terra. E conta di fi due paliacette per i fili. Ma non è anche da mangiare. E allora decidere di vendere la terra per comprare la farina per il paio. Prende la terra e si comincia a masurarla. Masura e masura. Fin sarà talda. La terra non accabava mai. Con tanti miliardi di metro. Raccolta lo che gli aveva detto. A quegli anziati. I compren tutti. Prende lo spacco di terra. E va a svendere il mercato. Del ricavato compra due vacche. Un terreno. E resta tambure un po' che di moneta. A voi vi offensi. A Mazzurzi. Cara Dio. E ringrazia che il buon uomo. S'ha passato un anno. E un mendicante si rappresenta ancora una volta. Nella casa della donna ricca. Solita da mana. Eglia sabiva la causa. Della fortuna. Della costarera. E lo fa entra in casa. O frinni di lube di Deo. L'uomo ragrazia e annanzia di Dio. Deo tabena esci. Qualsavol cosa scomanzerà a saffiare. Continuarà a saffiare. Fin sarà colgare del sol. Eglia tariva già pronta un metro di terra. E scomenza a maturarla. E in quel momento entra una gatta in casa. Se il cadena era cascià. Ma la gatta non aveva un trenda. Ascì. Ha sbattinti lo capi. Tutta la talletta. Finse a raccogliare del sol. Quando l'animale aveva trovato la porta. Pesci. Fuggì. Senza contà i trenda lottenti. Senza quella masura di la terra. Dons avvia pagati per la sua avarissia. E raccoglì anche l'uomo. Senza carità. Es un fiasco di vinagra. La storia e curiosità. La torre della Madarena. Con asciura erroneamente come alla torre dei Garibaldi. Una targa posizionata a facciara. Dio che era vanguta a visita dai due Garibaldi. Error. Giuseppe Retti nel suo libro a Porto Nifeo in Saldegna. 1923. Dio che l'an 1885. An soltate s'era diffondire una epidemia. De Corea. Garibaldi. Per olda della sottorità. Salcumando di un piroscaf. Arribava la ghe. Per trasfoltare. I purità. An salvo a Genova. Tres famiglias lagarisas. Entra las quali. També la mia. Di Uperetti. Io daria quattro anni. Paralas della nostra lingua. Curinalgio. Terra. A patitas montanitas. Esempia. No es una terra si bella. Es toti Curinalgio. S'ascriu. Colinario. Amarei lunga. E sa pronuncia Curinalgio. Cistus agarisius. De Chirofaga. Asfacim. Ese una parola che i napuritani sembra una facilità. Non proprio bella per significato. Ma come altre volte ho detto. Luchisto. Ese una varietà di parola. Bellas, fiei e avoltas di materesia. Come in questo caso. Luchisto era stato donato a un nome a Manut. L'est antirigente e buio. Quando era l'ecrore. A mamma mia tassa di via il corso. Cantava una canzone a moglie. Che era una brava donna. E si avvisava a Cristinetta la beata. Cristinetta la beata era figlia dei marini. Se scassara ma sfaccim. Che rivo riva ma sabì. La grazie a tutti. Siamo ascoltati a tutti. Siamo arrivati a prendere un altro momento. Siamo arrivati a prendere un altro momento.